Sta facendo parlare in città l'inchiesta che ha coinvolto la scuola della guardia di finanza di Coppito, bocche cucite all'interno della scuola dove una giovane allieva ha denunciato lo scorso 28 maggio uno stupro che sarebbe stato compiuto da un istruttore e che sarebbe avvenuto nella casa dell'uomo alle periferie della città il giorno prima. Accuse che chiaramente sono tutte da dimostrare, come tutti i presunti atti di sessismo che si sarebbero consumati in caserma, ma è ovvio che il fatto ha suscitato non pochi imbarazzi proprio per la gravità delle accuose. L'uomo coinvolto è un 33enne siciliano che è stato trasferito in altra sede e altre in carico in attesa di far luce. Si sarebbe difeso dicendo che si è trattato di un rapporto consenziente. Di tutt'altro tenore sarebbero ovviamente le dichiarazioni della ragazza che avrebbe invece sostenuto di non aver mai voluto andare oltre. Il caso chiaramente è di una delicatezza estrema, come tale va trattato. Le indagini le sta portando avanti la dottoressa Roberta Cicchetti, capo della squadra mobile, ma è coinvolta la procura militare. Al capitano, che è indagato per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti con l'aggravante di aver approfittato della posizione lavorativa, sono stati sequestrati un pc e il telefonino. Il telefonino sarà fondamentale perché starebbe venendo fuori l'esistenza di varie chat nelle quali gli ufficiali scambiavano commenti sugli allieve e proprio dal telefonino di questo capitano sono emerse altre tre posizioni di ufficiali che avrebbero tentato di insabbiare l'acqueduto, anche loro trasferiti e indagati per maltrattamenti. La ragazza avrebbe comunque deciso di continuare il percorso all'interno della scuola. Il capitano della finanza è difeso da due legali, uno dei quali dell'Aquila, Maria Leone, hanno preferito non commentare ma ad ogni modo sostengono che il trasferimento dell'ufficiale renderà le indagini più serene. Si dicono fiduciosi dell'operato della magistratura e sono altrettanto fiduciosi che la vicenda possa concludersi nel migliore dei modi. Anche la finanza ha avviato un'indagine interna, ma sulla faccenda c'è il massimo riservo sia per la ragazza che per i militari che potrebbero vedere la loro carriera distrutta. Nessuno vuole parlare dei legali anche perché l'indagine non è conclusa potrebbero cambiare i capi di imputazione.